Oggi vi volevo parlare della sindrome della coda morta, di cosa si tratta? Si tratta della coda del cane che praticamente quando rimane bagnata potrebbe avere un'infiammazione e quindi cadere giù come se fosse una coda appunto morta. Bisogna ricordarsi che ogni volta che il cane si bagna di asciugarlo bene, soprattutto in questo punto perché è come un prolungamento comunque della colonna vertebrale, quindi è un punto molto delicato. Ve ne parlo perché è successo al papà della mia cuccioletta che gli è venuto questo perché non è stato asciugato bene, quindi ha dovuto prendere degli antinfamatori due giorni, non riusciva neanche a sedersi. Quindi ricordatevi bene di asciugare oltre il cane in tutte le parti, siamo sotto al petto, ma la coda è di asciugarla bene per evitare questo problema. Come dico sempre, prevenire è sempre meglio che curare. Ciao!